Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni Resta inteso che Ostuni è sempre bella E mi piace pensare e ricordare i nostri benemeriti precursori Che hanno costruito la storia del nostro paese E dato lustro al nome di Ostuni L'hub vaccinale di Villa Specchia oggi è operativo dalle 9 alle 14 Per chi ha effettuato la prenotazione No Open Day Dopo la pausa natalizia Quando si rientra a scuola Tra ipotesi esmentite il ministro dell'istruzione Ricorda che lunedì 10 gennaio si ritorna tra i banchi Dopo il Natale si svolge il rito della magia dei presepi Allestiti nelle chiese della nostra città La prima visita è stata compiuta presso la chiesa di San Francesco In Piazza della Libertà Il servizio di Nando Sallustio Siamo nella bellissima chiesa di San Francesco Dobbiamo riscoprire la presenza di Dio in mezzo a noi Nei momenti felici e belli E soprattutto nei momenti in cui sentiamo la pesantezza delle tenebre Che ci circondano, della fatica del vivere Dio non ha condiviso solo il nostro stare in questo mondo Ma il nostro stare anche con fatica Il verbo si è fatto carne Dice San Giovanni nel suo prologo Cioè ha condiviso l'aspetto diciamo faticoso della nostra vita E allora questa fatica è di tutti E speriamo che possa passare Poi è fatta in maniera molto semplice Ci sono un po' delle statue di Ortisei molto belle E noi qualcuna la utilizziamo qui Normalmente tutto il presepe con tutte queste statue E' presente ed è sempre tutto l'anno visibile Nel museo che sta sotto la chiesa di San Francesco Le immagini che portano doni sono qui in disparte Noi, noi uomini e donne del ventunesimo secolo Che posizioni occupiamo in questo presepe? Quali doni possiamo portare a Gesù che nasce? Sono un po' distanziati perché ancora deve essere l'epifania Ma non si improvvisa nulla Neanche un incontro, va preparato Bisogna camminare, poi si arriva Quindi ho messo queste statue qui Non vicinissime al presepe, non dentro Per dire che bisogna fare un cammino per arrivarci Quindi ci siamo, ci siamo Ma siamo in cammino, dobbiamo ancora arrivare Cosa dobbiamo portare? I doni dobbiamo ringraziare Ciò che facciamo più fatica a portare nella nostra vita E a pensare che siano preziosi pure quelle Sono le nostre fragilità I nostri momenti difficili Perché tutti pensiamo di dover portare qualcosa di bello, di buono Qualche volta non abbiamo né niente di bello né di buono Almeno così ci sembra E quindi ci sentiamo inutili, ci sentiamo scartati Ci sentiamo da non poter dare un nostro contributo Il contributo si dà anche con tutte le nostre fragilità Mettendole a disposizione di un progetto molto più grande Dove anche, direi quasi, soprattutto le fragilità Hanno un posto particolarissimo come ce l'ha il crocifisso Nella giornata di ieri L'Associazione Milenari di Puglia Insieme a Surprise di Ostuni E Puliamo il Mare di Brindisi Hanno compiuto una buona azione Lungo la costa a Torre Pozzelle Raccogliendo rifiuti Perché le mareggiate fanno rispuntare Data la giornata soleggiata Tanti i volontari Armati di buona volontà E senso civico Nell'ambito dei patti per il lavoro e l'inclusione sociale I beneficiari del reddito di cittadinanza Sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività Nel comune di residenza Per almeno 8 ore settimanali Aumentabili fino a 16 A tal luopo Con determina adottata dal dirigente del settore avvocatura È stata comunicata l'assegnazione Di un ulteriore beneficiario Al progetto denominato Benvenuti Con inizio dell'attività dal 4 gennaio 2022 Si è spento all'età di 84 anni La cara esistenza di Sante Magno Collaboratore e speaker Insieme a sua figlia Gabriella Della nostra emittente La celebrazione sequiale oggi Alle 15.30 Presso la chiesa di San Francesco È venuto a mancare Il cavaliere Paolo Specchia La celebrazione sequiale oggi Alle 16 Presso la parrocchia dell'Annunziata Si è spento all'età di 95 anni Francesco Bottone La celebrazione sequiale oggi Alle 10.30 Nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa In questa triste circostanza Esprimiamo il nostro profondo cordoglio Alle rispettive famiglie La farmacia Corsa Effettua quest'oggi Il turno pomeridiano e notturno Meteo Tempo stabile Soleggiato Temperature ancora miti Venti deboli Prevalentemente disposti Dai quadranti occidentali Mari poco mossi Citazione odierna Per certe persone Perdi la testa Per altre Perdi il cuore Per molte Perdi solo tempo Grazie Per aver scelto La nostra informazione E buon inizio settimana Con hescita Si A A A A A